La maledizione dei single, maledizione ovviamente tra virgolette, sembra non voler cessare perché un'altra persona, un altro uomo relativamente giovane, Roberto Nordio, 57 anni, è morto la settimana scorsa, è stato trovato senza vita nel suo letto, nel suo appartamento. Questa brutta notizia ha lasciato veramente male il fratello Henry Nordio, che conosciamo tutti in pensione, è il gestore del negozio Expert 3, quello che c'è in via Maestri del Lavoro, che gestisce insieme con la figlia. Henry aveva provato a contattare Roberto telefonicamente, ma non otteneva risposta e pensava, anzi così ci ha detto un po', che l'aveva un attimo così mentalmente mandato a remengo, nel senso che non mi risponde mai, e purtroppo invece è stato trovato senza vita nel suo letto, molto probabilmente a causa dell'infarto. Roberto era singolo, era conosciuto per aver gestito per molti anni un negozio di bombonieri in Cale Madonna, da anni aveva stabilito legami con la Romania, come dimostrano numerosi messaggi di cordoglio ricevuti dagli amici romeni, sul suo profilo Facebook. La morte di persone relativamente giovani, che vivono sole, lascia un'impressione profonda e sconcertante. In altre occasioni abbiamo cercato di trovare anche delle spiegazioni per queste morti così relativamente giovani. Adesso uno a 57 anni, insomma, non è certo una persona anziana. Spesso, diciamo, queste morti vengono attribuite un po' allo stile di vita. Tuttavia c'è da considerare anche che la condizione di single aumenta comunque la probabilità di non arrivare a una vita media, di non riuscire ad avere una vita più lunga, perché quelli che vivono in coppia, o insomma in compagnia con i figli o con alcun altro, contano che avendo una persona vicina si prende cura di loro. Quando si è single tendiamo a rimandare le cubre personali e purtroppo, dobbiamo dirlo, il nostro sistema sanitario attuale rende più difficile persino parlare col proprio medico di base e ottenere anche un appuntamento per gli esami necessari. Tutte queste sono circostanze che, in un contesto diverso, potrebbero essere rilevati in anticipo, permettendo di intervenire prima che i valori si alterino o semplicemente quando ci si accorge di non sentirsi bene, al fine di lanciare l'allarme. Quante persone sono state salvate perché grazie a una persona vicina si sono accorti di non star bene e hanno richiesto un soccorso tempestivo. All'84esima Sagra del Pesce di Chioggia, al Veccio Cason, piatti cucinati al momento e serviti al tavolo, garantita la freschezza e l'autenticità in un'esperienza unica. Prenota al 320-272-6612 e assicurati un posto nel nostro accogliente e straordinario stand. Ti aspettiamo!